E' stata la signora Luisa Costa, la Zalusina, 87 anni, la più anziana tra i pochi abitanti del borgo di Scopello, ad inaugurare con il sindaco Nicolo Coppola la restaurata Torre Benistra a Scopello. E sulla torre la signora Luisa è perfino salita, percorrendo il sentiero Cai, numero 631, che permette di raggiungere la vetta, a 202 metri sul livello del mare. La signora Luisa ha voluto rivedere quella torre, che non raggiungeva da quando era ragazza, perché praticamente crollata e rimasta solo un rudere. Lì raccoglieva fiori e asparagi, la più anziana e la più giovane. Contemporaneamente la piccola Adriana, a 5 anni, ha piantato una quercia ai piedi della torre. Sicuramente è un momento storico, l'inaugurazione di Torre Benistra e dei locali informativi nel borgo di Scopello ci riempie di orgoglio perché dimostra che un ente pubblico può e deve lavorare produttivamente per la collettività. La restituzione di un edificio storico, quale Torre Benistra, afferma il sindaco Nicolo Coppola, è la creazione di un punto informativo turistico, con locali adibiti anche ad esposizione di prodotti tipici e per mostrare la nostra arte dell'intreccio e la testimonianza che la valorizzazione del territorio è possibile solo con un lavoro attento che consente di raggiungere obiettivi a lungo termine e graduali. Risultati importanti come quelli da noi conseguiti qui a Scopello. Torre Benistra torna ad essere viva, un importante punto di osservazione paesaggistica, un luogo naturale e incantevole, un bene storico che rivive e che i cittadini sentono proprio, come dimostra la grande partecipazione all'inaugurazione e i tanti che hanno voluto raggiungere la vetta. La salvaguardia e il rispetto dei beni culturali deve passare però anche dall'attenzione dei privati. Presente all'inaugurazione anche l'assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca, Antonello Cracolici, che utilizzando una metafora ha affermato che la Sicilia ha grandi quantità di petrolio da estrarre, sfruttare e vendere. Qui a Scopello oggi si dimostra che la Sicilia può farcela, ha affermato Cracolici, promuovendo le tantissime ricchezze di cui disponiamo. Siamo noi stessi a doverci convincere che la nostra Sicilia è migliore di quella che raccontano. Il recupero della torre di avvistamento è stato finanziato nel 2012 con 805.000 euro dall'assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari per lo sviluppo e rinnovamento dei villaggi alla precedente amministrazione. Presente infatti anche l'ex sindaco Marzio Bresciani, che è intervenuto nella prima parte dell'inaugurazione per ringraziare chi ci ha creduto, chi ha collaborato per il finanziamento e il progetto e chi ha portato a termine la restituzione del bene culturale. Lo storico padre Michele Antonino Crociata ha illustrato il sistema di comunicazione delle torri di avvistamento e Mario Vaccarella, consigliere nazionale della CAI, ha sottolineato il ruolo e l'attività del centro alpino, molto attivo nella cittadina. Musica e festa in piazza Nettuno con la banda musicale, città di Castellammare e il gruppo Quelli della Contradanza di Cinisi. Dopo il percorso pedonale, a piedi della torre, anche l'intervento di Simone Cusumano, responsabile dei lavori pubblici dell'ufficio tecnico, che ha illustrato in dettaglio il lavoro di ricostruzione e messa in sicurezza della torre, e ringraziato la ditta Sceli Energia SRL di Santa Ninfa, che ha effettuato i lavori, le maestranze impiegate, la ditta Geraci, Pizzo e Calega, che hanno realizzato il complicato e altissimo ponteggio, ma anche i proprietari delle aree, che con collaborazione hanno consentito la realizzazione dei percorsi. Per la ricostruzione, ha spiegato un ingegnere Cusumano, è stata utilizzata la stessa pietra alla base della torre. Sono state ricostruite sia la porta di accesso alla torre, sia la finestra, e le feritoie utilizzate per le comunicazioni. La torre, ha spiegato Cusumano, è illuminata esternamente da 18 proiettori ottici a LED. Nell'area circostante, la torre è stata realizzata un'area a bel vedere, quale punto di osservazione del territorio circostante, ed è stata delimitata, così come tutta la scalinata, da una ringhiera in acciaio di tipo corten per rendere abbastanza sicuro il percorso dei visitatori. In conclusione, l'intervento di Giuseppo Liveri, presidente del CAI Sicilia.